Direttore, sono tantissime le realtà che stanno sostenendo la RACE, questo è un bel segnale perché parte proprio dagli aziende, da quell'aspetto familiare che spesso si crea in queste realtà nel diffondere il messaggio di prevenzione e salute. Sì, è vero che Comen è la più grande manifestazione, la più grande realtà italiana mondiale in Italia da 25 anni che si occupa di prevenzione ai tumori al seno. Ora Matera è una delle cinque sedi italiane dove il tutto si manifesta in maniera concreta, abbiamo un comitato regionale molto attivo presieduto dalla nostra Laura Tosto, siamo tutti qui impegnati da anni ormai, oggi siamo qui ad aprire questo villaggio, quindi sport, solidarietà e divertimento tutto insieme perché ci sono 56.000 donne che in questo momento in Italia stanno affrontando questo problema, quindi ci sentiamo uniti, uniti al loro disagio, al loro problema e quindi io sono qui a manifestare che il mondo dell'impresa è presente, lo è stato e lo sarà. Quindi vedremo diverse vostre realtà a partecipare domenica? Certo, come sempre.